In questa terza stagione le Ienapappis hanno deciso di affrontare degli argomenti particolarmente delicati, sentendo degli esperti, ma dando anche il punto di vista dei ragazzi. Questa rubrica si chiama La legge secondo noi. Il primo servizio riguarda la pedofilia. Ecco cosa dice il vocabolario online della Trecani. Pedofilia, devianza sessuale che si manifesta con azioni, ricorrenti impulsi e fantasie erotiche che implicano attività sessuali con bambini prepuberi. I soggetti che ne sono affetti, quasi sempre maschi, spesso usano la violenza e la coercizione per mettere in atto i loro impulsi, giustificando o razionalizzando il loro comportamento in vario modo. In un elevato numero di casi il pedofilo è stato a sua volta oggetto di uno più aggressioni sessuali, nell'infanzia o nell'adolescenza. Siamo andate in una delle tante stazioni dei carabinieri e abbiamo chiesto al comandante come individuano i casi e come le vittime devono comportarsi. Cosa consiglio di fare se si è vittima di un pedofilo? Non tenerlo per sé. Chiedere immediatamente aiuto. Aiuto innanzitutto a individuare un adulto di cui si ha fiducia, ovviamente i genitori, gli insegnanti, qualsiasi altra persona che si conosce bene e dire mi sta succedendo questo. Anche se non si è sicuri, perché molte volte i segnali sono subdoli, specialmente se questa persona avvicina la vittima e la avvicina in un ambiente, ad esempio, virtuale. Noi non lo vediamo fisicamente, non vediamo il suo volto, però abbiamo qualche dubbio perché il profilo del social network, la scrittura su WhatsApp, cioè su tutti i modi di comunicare piazze virtuali, non ci convince, non convince ragazzo e ragazza. In questo caso chiedere subito aiuto perché l'adulto sa che deve rivolgersi a qualcuno di specializzato, cioè noi, di specialista. Si possono vedere se queste persone, si può vedere, si può controllare, sono effettivamente chi dicono di essere o meno. Quindi nel minimo dubbio rivolgersi a un adulto, fare quello, che saprà come interessare noi. Poi noi in base alle prime descrizioni, alle prime indagini, siamo in grado di capire, di individuare se questa persona è effettivamente pericolosa o se è solo una persona che basta eliminare. Questo nell'ambiente virtuale. Il pedofilo può comparire anche nell'ambiente reale, per strada, quindi i normali accorgimenti che ogni buon genitore dà, quindi girare in gruppo, evitare i luoghi troppo isolati, troppo appartati e bui. Questo è un normale accorgimento, cioè di non correre il pericolo, diciamo normale. Se comunque esiste un minimo dubbio che una persona possa avvicinare l'adolescente, sia adesso maschio o femmina, con intenzioni non chiare, allontanarsi e chiedere aiuto. Quindi interpellare un adulto in questo caso. Se si è fuori, andare in un luogo di aggregazione e dire mi sta succedendo questo. Un avvocato ci ha detto come vengono puniti penalmente. Volevamo chiederle se effettivamente esiste il reato della pedofilia o se è conosciuto sotto altri nomi. Buongiorno. Il reato di pedofilia tecnicamente non è previsto dal codice penale, in quanto è previsto nell'ambito dei reati contro la persona il reato di violenza sessuale. Reato di violenza sessuale che è il comportamento di chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali. Atti sessuali che possono essere sia atti di vera e propria natura sessuale, quindi rapporti sessuali, o anche degli atti che hanno una minore valenza sessuale, ma che comunque comportano una corporeità del contatto fra le due persone. Nell'ambito di questi reati di violenza sessuale è prevista una gradualità di pene e un insieme di circostanze aggravanti a seconda delle persone con le quali si commettono questi reati. Ecco, una delle circostanze aggravanti, più di queste circostanze aggravanti, è relativo all'abuso di minori e quindi alla violenza sessuale con i minori. Per cui la pedofilia, il reato di pedofilia, rientra nell'ambito della violenza sessuale relativamente a persone minori. Quali sono le pene che vengono inflitte quando la pedofilia viene messa in atto? Noi abbiamo una pena base, che è quella del reato di violenza sessuale, che è di 5 anni. Il reato è punito con una pena che va da 5 a 10 anni. Vi sono poi, come abbiamo detto, delle aggravanti relativamente ai minori di età di anni 16, se il reato è commesso dal tutore o nell'ambito del rapporto familiare o di anni 14 e in questo caso la pena va da 6 a 12 anni. Vi è poi un ulteriore aggravante quando si tratta di minori di anni 10 dove le pene vanno da un minimo di 7 anni a un massimo di 14 anni.